la riapertura del 12 al 9 adesso è un vento il 12 al 9 ho perso i tappi ho perso ho preso ho preso ho preso facciamo il passo e poi il 4 pesca vai con noi sempre liberi mi piace andare lisi il 4 pesca il 4 pesca il 4 pesca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.